Sbarrata con diversi blocchi di cemento armato, l'unica strada che porta alla sacra vetta del monte Gelbison, dove è situato il santuario Maria Santissima del Sacro Monte, a meno di dieci giorni della sua apertura. L'ordinanza si è resa necessaria da parte dell'ente comunale già dal mese di aprile per il pericolo caduta massi e per il monitoraggio del costone roccioso che sovrasta alla strada. Il pomeriggio più triste della storia, scrive un cittadino su Facebook, quest'anno si rischia di far saltare il tradizionale pellegrinaggio che dura da più di cento anni. Tutte quelle persone che arriveranno la notte del 26 con autobus e macchine dovranno salire a piedi, immagino che disagio ci sarà, scrive un altro cittadino indignato. Intanto il sindaco di Novi Veli, Adriano De Vita, ha invitato i cittadini novesi per sabato 18 maggio alle ore 20 a partecipare all'Assemblea Popolare che si terrà presso l'Aula Consiliare per trattare le problematiche inerenti la frazione Montesacro.